Siamo qui con il presidente, il giocatore, il capitano e da oggi anche mister del Tony Ponzi, scusami, del De Angelis School Hapsus. Dopo l'esonero di Bollino, ti sei messo tu alla guida di questa squadra sulla panchina e oggi hai esordito da mister con una grande vittoria. Una partita sudata però fino alla fine, poi negli ultimi minuti, il gol di Filangeri. Insomma, che incontro è stato? Sì, questa è stata una vittoria meritata, ringrazio tutti i ragazzi. Siamo partiti con un modulo nel corso della partita, al secondo tempo ci siamo messi con la difesa a tre. Come sappiamo giocare meglio, forse siamo tornati un pochino indietro, però ha portato i tre punti, ha portato i frutti, quello che volevamo. Che dire, sono contentissimo, abbiamo esordito bene, ho fatto un po' di sacrificio questa tira, ho preso un pochino di freddo, ma per questa squadra faccio questo ed altro. Ci tengo in modo particolare, forse è giusto un De Angelis che poteva guidare il De Angelis, è giusto così. Speriamo di andare avanti passo dopo passo, adesso incontriamo il San Giovannella, un scontro diretto, andiamo lì. Ecco, abbiamo espulsione di Giacinti, ma fortunatamente abbiamo un bel po' di giocatori. Stasera erano, come avete visto, tutti presenti, a parte Cioffi che ha avuto dei suoi piccoli problemini, ormai ha superato i 100 kg, lo diciamo in diretta, però abbiamo altri giocatori. A parte di tutto sono felicissimo di questa partita e come è andata a finire, 4-3, risultato giusto, loro sono un'ottima squadra come l'abbiamo beccati anche all'andata. Cioffi va bene così, tra un po' sarò anche presidente della Lega, questo è chiaro. Allora parliamo più nella fattispecie della prossima con la San Giovannella, l'andata a finire 3-3, una squadra fisica, una squadra tenace, che incontro ti aspetti e su che piano metterei quella partita? Beh, lì spero magari che dell'anno va in feria e non viene. Vedevo proprio ieri i firmati del San Giovannella, ho curiosato un pochino e c'è una grande punta, c'è una grande punta, sono una buona squadra e andiamo lì con i piedi per terra a affrontare questa gara. A noi ci servono i tre punti, come a loro, perciò uscirà sicuramente una grande partita. Secondo me non è neanche una partita da play-out, perché siamo due buone squadre, perciò sono sicuro e ripeto che sarà un'ottima squadra. Grazie Roberto De Angelis.